Buonasera Oggi vi racconterò una parte, anzi, un grande riassunto della mia avventura, anche perché ho 37 anni, non li dimostro, lo so, però ce li ho, e ho iniziato a gareggiare quando ne avevo nove, quindi non ci basterebbe tutto il pomeriggio per raccontarla. Allora riassumiamo. Vi chiederete come la storia di un osciatore sia collegata a un autore di fama internazionale come Pirandello e la tematica realtà-finzione. Beh, voglio partire da una parola, una parola che noi sportivi odiamo, con la quale tutti abbiamo a che fare prima o poi nella nostra carriera. Chi più, chi meno, in base alla fortuna, però difficilmente qualcuno di noi riesce a schivarla sempre. Io faccio lo salomista, pensavo di essere bravo a schivare, schivo paletti da quando sono nato, però a schivare questa parola sono stato un disastro. Bene, questa parola è stop, è una parola semplice e banale che trasmette una cosa, dolore, dolore determinato soprattutto da un infortunio che sembra polarizzarti, a zerare tutti i tuoi progetti, ma in realtà è l'opposto. Si tratta proprio di una finzione linguistica. Questo fermarsi, questo interrompere il proprio percorso, il proprio obiettivo, il proprio viaggio verso l'obiettivo, verso il nostro sogno, ti spinge, anzi ti obbliga a cercare un'altra strada, appunto la realtà. Il dualismo realtà-finzione che rappresenta la tematica odierna è quanto mai centrato su questo punto, perché lo stop diventa un'opportunità di crescita, non è più uno stop, ma un'opportunità di crescita. Purtroppo la strada alternativa non è facile da trovare, a volte è nascosta, non si vede al primo sguardo, bisogna rimboccarsi le maniche, cercare e ancora cercare. Questa strada però c'è, sempre, ed ha una caratteristica fondamentale, è più lunga e più ripida della precedente, di conseguenza il viaggio è diverso da quello che ci aspettavamo. Forse il traguardo non sarà lo stesso, forse la strada sarà molto lunga, ancora di più di quello che ci aspettavamo, ma quando arriverete sulla cima sarete più forti, sarete migliori, sarete più esperti, avrete vissuto situazioni inaspettate, provate emozioni nuove e visto paesaggi diversi. Questo percorso alternativo può diventare un'opportunità di crescita e un'avventura indimenticabile. Come vi dicevo ho iniziato a sciare quando avevo quattro anni, e la mia storia è piuttosto comune, un ragazzino dell'Appennino Reggiano, che aveva un sogno. Sull'Appennino Reggiano dovete sapere che siamo sfortunati rispetto alle Alpi, non abbiamo le stesse piste, ma proprio per quello abbiamo forse un po' più di passione, un po' più di amore verso questo sport, verso lo sci. Io ho iniziato a sciare grazie a mio padre, fabbro di professione ma maestro di sci come hobby, e ho seguito l'iter classico, quindi sci club, prima garette provinciali, poi regionali, poi essendo bravino nazionali. E ho avuto tanta fortuna nella mia vita, soprattutto quella di avere una famiglia che ha fatto tanti sacrifici, tantissimi sacrifici per permettermi di inseguire il mio sogno, diventare uno sciatore professionista. Ovviamente loro non sono bastati, perché ho avuto anche la fortuna, nella mia cara Emilia, di avere, vicino a casa, di avere fior fior di professionisti che mi hanno guidato, supportato e fatto crescere costantemente. Ma probabilmente le cose devono avere il proprio equilibrio, e quindi ho avuto anche molta sfortuna, con i famosi top che non sono riuscito a schivare, gli infortuni. A 15 anni ero arrivato ad essere uno degli sciatori, dei ragazzini più promettenti a livello nazionale e internazionale. Mi dovetti fermare per due anni per un problema di schiena. Con mio padre ho girato tutto il nord Italia, tutti i professori, tutti i luminari conosciuti, e è stata dura perché non ci credevo più, io ormai avevo perso le speranze. Invece mio padre mi ha spinto a provare un'ultima dottoressa, perché la sentenza era smettere di sciare. Mi ha spinto a cercare, a fare quest'ultima visita da una dottoressa di Bologna che faceva RPG. Io gli risposi di sì, ma gli risposi anche, papà, è l'ultima, non ce la faccio più. Ebbene, l'ultima fu quella buona, mi mise in piedi, mi rimise in piedi e un anno e mezzo dopo ero nazionale giovanile. Trovai in qualche modo quella strada nascosta di cui vi parlavo prima, ci misi più tempo del previsto, assolutamente, ma alla fine la trovai. Per esprimere appieno il mio potenziale però ci misi tre anni. I primi due mi servivano a recuperare il gap fisico che avevo con i miei compagni di squadra, perché tutti gli anni col problema della schiena avevano compromesso la mia preparazione. Quel periodo di stop comunque aveva cambiato le cose. Io avevo dovuto cambiare strada. Compensai con la tecnica, ma il gap comunque andava colmato. E quindi ogni anno, un passo avanti, Coppa Italia, poi Coppa Europa, nello sci scalare le posizioni non è una cosa veloce, immediata, perché bisogna fare punti per migliorare il numero di partenza che noi chiamiamo pettorale, per poter poi giocarsi le posizioni che contano, il podio. Partendo col pettorale 70 non si può puntare alle prime posizioni. Esordì in Coppa del mondo il mio ventiduesimo compleanno. Due anni dopo feci il primo podio, tre anni dopo feci la prima vittoria. E poi ci fu il grande evento, il grande sogno, le Olimpiadi di Vancouver. Bene, le ho vinte. Le ho vinte perché sono arrivato pronto. Perché la strada che mi ha fatto perdere tempo sia a cercarla che a percorrerla, ha fatto sì che io fossi in grado di farlo. In fin dei conti il tempo non era stato affatto perso. No, anzi, era quello che mi aveva rinforzato. Arrivato all'apice, con la medaglia d'oro al collo, devo dire che le premesse per la seconda parte della mia carriera erano molto buone. Invece, dopo ancora un anno ottimo in cui vinsi e feci diversi podi, ne passarono tre in cui raccolsi poco, molto meno delle aspettative. Ma risolvendo alcuni problemi fisici e di materiale, riuscì nuovamente a tornare al top. Finalmente l'ora della raccolta era arrivata. Ogni gara facevo un podio o un risultato nei primi 5-6. Ero nel momento migliore della mia carriera. Avevo 30 anni, non avevo punti deboli, ero forte in tutte le piste e in tutte le nevi. Solo, non so se seguite, forse qualcuno conosce questi nomi, sono più famosi che il mio, molto più famosi che il mio, Irscher e Christoffersen erano più forti di me. Ma in certe piste sapevo che potevo essere io il migliore. E una di queste piste era Kitzbühel. Una pista magica, antica, difficilissima, unica. Ebbene, quel giorno avevo il pettorale numero uno. Era una cascata di ghiaccio e a me piace il ghiaccio. In partenza io sapevo di poter vincere. Ero pronto, ero di nuovo pronto a vincere e volevo vincere. Ma l'epilogo fu diverso. Entrai in una porta tracciata in modo pericoloso, troppo velocemente. Avevamo visto tutti in ricognizione che bisognava frenare. Io frenai, ma non abbastanza, e mi ruppi il ginocchio. I miei avversari poi, dopo di me, frenarono molto di più, ma ormai il mio ginocchio era andato e la cavia ero stato io. E devo dire che nonostante la mia laurea d'onore in fisioterapia, me l'hanno consegnata dopo che ho passato tanto della mia vita sul lettino da fisioterapista, ho sbagliato i tempi di recupero. Pensavo di farsela in sei, otto mesi. Quindi avevo già in mente la strada diversa da fare per quei sei, otto mesi. E invece fu diverso. Dovete sapere che un atleta professionista si allena a dodici mesi all'anno e fa una settimana di riposo completo. Ma bastano 15-20 giorni di stop per cambiare le carte in tavola e perdere oltre il 50% dello stato di forma acquisito. A quel punto ci vuole un piano B e uno C per poi ritrovarsi a fare quello D. Perché la programmazione cambia continuamente per adattarsi ad ogni imprevisto. E gli imprevisti sono sempre lì. Anche il più piccolo. I miei preparatori, Luca e Roberto, che si occupano da moltissimi anni della mia condizione fisica e mentale, hanno fatto un lavoro enorme per permettermi e per farmi affrontare ogni imprevisto nel modo migliore. Lavorando professionalmente e con grande esperienza. Si può anche rimediare ai piccoli imprevisti, soprattutto con l'esperienza. Ma un ginocchio è diverso. Un ginocchio ci vuole almeno un anno per recuperare completamente lo stato di forma precedente. Io ce ne misi due. Ricordo che nel tragitto verso l'ospedale, pensai da Kitzbühel a Milano, pensai Kitzbühel ci vediamo l'anno prossimo, l'anno prossimo avrò la mia rivincita. Nel mentre persi i punteggi dovetti ricominciare da capo, perché ero finito a partire con il pettorale numero 70 in Coppa del Mondo. Come vi dicevo prima, è dura col 70. Iniziai a fare Coppa Europa e Coppa Italia. Ritornare a far le gare con i diciottenni. Dovete ricostruire mattone dopo mattone non solo la mia forma fisica, ma anche tutto il punteggio necessario per partire con un pettorale decente. Quando gareggiavo con i diciottenni, devo dire che io da grandicello, non è stato facile, però nella difficoltà della situazione sono riuscito ad apprezzare molto i giovani, a imparare da loro e loro imparare da me. Perché stare con i ragazzi si rimane giovani. E anche la mia sciata, la mia tecnica, ne ha giovato. Parlando di rivincita, per avere una parte della rivincita ci misi quattro anni, non uno, quattro. Decisamente più del previsto. Ed era il 2020, sempre lì, sempre lì a Kitzbühel. Nel mondo di oggi la società gira e diciamo che parla sempre del tutto e subito. Sempre meno persone sono disponibili a impegnarsi nel tempo per raggiungere un obiettivo. Cercano scorciatoie, stratagemmi. La mia vita da sportivo invece mi ha insegnato che le scorciatoie sono pura finzione e che un successo vuole raggiunto passo dopo passo. Ma nella realtà tutte le difficoltà e l'impegno volto alla ricerca della soluzione agli imprevisti mi hanno consentito di crescere come uomo. Ogni volta che ero costretto a ripartire da zero, anche se nella realtà non ripartivo da zero, in qualche modo mi trovavo magicamente migliore, più forte, migliorato. Quando mi chiedevano in questi ultimi due o tre anni perché fossi ancora a lottare in Coppa del Mondo quando erano anni e tempo che non facevo più podio, che non avevo certe soddisfazioni, io rispondevo sempre che la mia rivincita non era completa, che mancava qualcosa, non era finita. Paradossalmente ogni anno, l'età avanza per tutti, era sempre più difficile raggiungere questa rivincita. C'era solo la speranza di farlo. Ma ho continuato a lavorare ogni giorno sperando di poterla completare, prima o poi. Quel giorno è arrivato quest'anno, dove ho concluso la mia stagione di nuovo tra i migliori al mondo e migliore tra gli italiani, centrando il podio a Wengen come atleta più vecchio della storia, islano speciale. Un anno, il 2022, che mi ha visto di nuovo al cancelletto di partenza delle Olimpiadi, giocandomi la vittoria fino all'ultima porta, sfiorando la medaglia per 26 centesimi. Questa è la realtà che diventa finzione, perché quei pochi centesimi in cui ci giochiamo tutto rappresentano la punta dell'iceberg, mentre la vita rappresenta la parte sommersa dell'iceberg. Ma la verità è anche un'altra. Quest'anno, nella mitica Kids, che come vi raccontavo mi ha tolto tanto in tutta la mia vita, in tutta la mia carriera, una carriera lunga 28 anni, sono arrivato a tre porte dalla vittoria, a 37 anni, sono arrivato a tre porte da chiudere il cerchio di tutta la mia carriera. Ma ho sbagliato. Ho sbagliato vicino al traguardo, buttando via un'impresa. È stata una grande delusione. Avevo gli incubi quella notte. Mi svegliavo ripensando a questo dosso, sono sbagliato in un dosso, mi svegliavo, facevo il dosso, e lo sbagliavo, mi risvegliavo, facevo il dosso, e lo risbagliavo. Vabbè. Però, questa delusione ha fatto sì che l'anno prossimo sarò ancora lì, a cercare di crescere, di migliorare. perché le scorciatoie sono finzione. E la realtà è fatta anche di grandi delusioni, ma la vita di grandi sogni. grazie. Grazie a tutti.